Ciao ragazzi, ho messo in un nuovo video di FASTNET Vai, vai, iniziamo adesso Allora, iniziamo con The Floss Oh, madonna come lo fai bene Ma questo ti sei allenato parecchio, eh? Poi, sei un perdente E poi, dai Poi, fresco Poi, colno, sexy da matti Oh, ti è venuto benissimo Poi Poi, colno Fai il serpente E con le braccia, così devi fare una prova E con le braccia a mettere in un altro modo? Fai? Puoi sbatti la capoccia Va bene, alza di saluta Eh? Alza di saluta Fai che bello potremmo fare Ehm... Buffo Come si fa? Ehm... come si fa? Ehm... come si fa? Aguila Vabbè, saluta, vai Pico, saluta Vabbè, saluta Dai, vabbè, saluta Dai, per l'educazione Per l'educazione si saluta Pollici in su o pollici in giù Fate come vi pare Ciao In su, in su Stavolta in su Ciao 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 Ciao